Nel nome metelliano ritroviamo le proprietà dei metellis, di quella grande famiglia che ha dato origine anche alla stato dell'Arringatore. E nel nome di Sant'Angelo indica un successivo sostrato longobardo quando si scelse il santo preferito di questi popoli che venivano da nord dopo la caduta dell'impero romano. Cortona Rando ha fatto tappa alla chiesa di San Michele Arcangelo a Metelliano, una delle più antiche di Cortona. Lo risale all'undicesimo secolo ed è quindi un bellissimo esempio di arte proto-romanica presente nel nostro territorio. È una chiesa che dal punto di vista artistico e stilistico fonde insieme numerosi elementi culturali, quindi la tradizione romanica ma soprattutto di ambito lombardo insieme alla tradizione ravennate e bizantina. E quindi troviamo in questa chiesa una grande varietà di stili che sono mescolati insieme per creare un edificio di grande bellezza e armonia. A prender parte all'appuntamento 100 turisti a chilometro zero. Un grande successo nonostante la pioggia con Giove e Pluvio che non ha dato tregua oggi, abbiamo raddoppiato le presenze quindi siamo molto orgogliosi di questa grande affluenza di pubblico e siamo ben felici di aver dato seguito a questa iniziativa. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 9 marzo alla chiesa di Santa Maria Nuova per un'immersione nel capolavoro cortonese di Giorgio Vasari.